salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di rage bin andiamo pure avanti vediamo che succede qui carichiamo che è meglio e vediamo un po' ho sentito un po' di voci quindi non so bene effettivamente dove siano ah qui ok uno è andato laggiù dove mi hai visto come hai fatto a vedermi io pe 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 to adesso facciamo così perché l'ho visto oh facciamo così ma vaffangulo ok così non mi viene ah è sparito non è venuto si è spaventato vabbè non è che sono io per dire qualcosa mi scusi lei può uscire da lì che io non vedo un casso ma no ho fatto una cacata come al solito mio l'ho preso nel naso si l'ho preso nel naso beh farà male insomma si uno dice occhio l'altro dice naso insomma così che funziona no ho sbagliato ok andiamo su un'altra linea su grazie molto gentilo prendiamo un po' qui prendiamo un po' qui prendiamo un po' qui e beh erano pochi non erano neanche tanti bene siamo bene dai forza andiamo pure mi stanno devolando le zanzare andiamo pure avanti avanti e avanti dove vi speriamo eh ecco di qua ok ce la faccio eh preoccupate parte che mi mangio tutte le parole e comunque si ah ah interessante ovviamente dice che non ce le ho ma adesso le andiamo a farle subito eh se le trovo lo eccole qui mi fai una grazie molto gentila molto gentila abbiamo detto qui allontaniamoci sono i miei nella faccia non è bello l'esplosione da panico vediamo un po' qui ovviamente sono pieno qui sono pieno ovviamente anche di questi di quelli no però eh beh al fine munizio oddio per carità eh se non le avevo erano una manna qui proviamo a fare così dai proviamo a fare così proviamo anche caricare prima facciamo figure di merda perché ne faccio già tante ovviamente mi sono piaciuto fare una caccata del genere tra noi no 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 aspetta un secondico vieni qui figlia di puttana cioè oh scusa questo turpiloquio allora vediamo un pochino eh si ok ti ho visto eh non importante qui resta alla fine penso sia la cosa più importante mi scusi lei ecco brava con questa faccia da culo molto gentilo eh altri non vedo altri vediamo un pochino io andrei però ho un po' di paura carichiamo anche se ne abbiamo non si sa mai, vediamo se c'è qualcosa qui da prendere ho detto io che c'era un rompio e palle ma come mi strapperei la faccia? come ti permetti? dove sto? yaya e poi non c'è un cane ok, ha fatto una bella capriola da panico e c'è rimasto là allora tu mi dovresti strappare la faccia vero? me lo ricorderò qui sono venuto, ne sono abbastanza sicuro qui non c'è niente ok, andiamo pure oh mamma mia, ho un'ansia no, 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 vieni qua grazie, me lo ricorderò fammi il naso migliore, grazie accidente a te ok, è andata anche questa penso che andrò col pompa perché non so proprio cosa aspettarmi e la gente è molto aggressiva qui allora, andiamo pure con calma tanto... dove? chi? quando? ma porca la vacca, ma da dove? cazzarola sei uscito no, da dove cacchio? è uscito, ma quanti ne sono usciti? gli mortacci sua porca vacca, ma ne sono usciti tantissimi ma da dove? non lo so cavoli, ma devi farmi vedere da dove esci se no come faccio a sapere? sei un po' fettentone, lo sai? adesso questa sotto c'ho la barra sotto che capisco quando si ricarica non so se si ricarica a uccisioni fatte, ma non lo so o a tempo quindi cerchiamo qui ti vedo e mi vai anche bene ma quando tu mi compari all'improvviso ne da dietro e ne davanti ma dal cielo mi stavi un po' sul cazzo, eh figliolo allora, andiamo un pochino qua qui non c'è niente qui non c'è c'è, ma non c'è nulla ok mamma mia, che ansia oh, non dice niente di buono questa cosa chi? quando? non mi venire ancora da dietro, eh detto così non è proprio bello ok, adesso so dove sei ti cambierò grazie, molto gentil ok, questo è andato poi vediamo un pochino di girare un po' attorno e vediamo cosa c'è di bello a parte questo che comunque è munizioni della pistola che non uso dovrei incominciare a usare effettivamente è bella la pistola mi piace tanto ma nel naso mi è finito quindi un'arena un'arena ok o almeno credo no, no ho sbagliato alla grande ma cazzo mi fanno malissimo questi a volte non basta un colpo eccolo là no, no ecco sto cazzo aspetta un secondico che cazzo oh, non basta un colpo cavolo ma sono fortissimi allora mettiamoci qua così siamo un po' parati ah, è già finito? è già finito io mi sono preparato tutto psicologicamente ha detto adesso vengono mi fanno il culo mi hanno fatto solo il culo e basta ok, quindi io posso andare di qua bene mi fa tanto piaciore vediamo un pochino cosa fare eh sotto di noi no, 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 no aspetta no, no l'ho preso stavolta è anche bene ci identi a lui aspetta non ci provate ci identi a te oh, guarda che non è facile prenderlo perché c'è sto mirino che è piccolissimo porca vacca no, no, non farmi così ti prego eccoci qua io volevo caricare con molta calma sì, si sta caricando ma non so se a tempo o a o a pirlate che faccio ah, questo mi può interessare quindi facciamo così così, avete detto e così eccoci qua e questo è morto ok, ritorniamo con la nostra pompata perché non si sa mai andiamo avanti con molta cautela questo dungeon mi sembra abbastanza pericoloso non so che di livello sia sia di livello che ho io cioè, qui non ci sono livelli non so, ma ti caglio l'icono no, quanti ne hai di sti cosi allora, sono abbastanza sicuro che ce ne fosse uno dietro bastardi ok vai così ok, mamma santa miseria ma da dove cazzo è uscito? da qua sotto è uscito mamma mia così non è giusto non posso fare piazza pulita perché i miei compagni sono lo stesso eh, non è bello ok caricato abbiamo caricato meno male che luttano almeno questo se no sarebbe un bel cazzo di casino ma cazzo mia mi hai tirato un calcio da panico vieni qua vieni qua ok facciamo così eh, cazzarola cazzarola pesanti potenti potenti e non li faccio un cazzo ovviamente col compazza non li faccio niente perché è un compazza eccoci qua top ok ritorniamo qua e carichiamo che non si sa mai luttiamo che è meglio perché non si sa mai cosa possiamo prendere ma che cazzo ho preso che non mi ha detto niente ma vabbè facciamo così facciamo così grazie molto gentilo vorrei vedere un attimo perché prima non mi ha detto niente quando ho luttato quest'anno ah qui ma da 23 addirittura ah forse non mi ha detto niente perché ho luttato qualcosa che già avevo al massimo può essere potrebbe essere una ho quasi recuperato dai non male no 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 ma no ho sbaglio sempre scusatemi ragazzi ma oggi non ci sono sono svegliato malo e viene fuori un casino no questo qui qua ci metto troppo lo so no 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 top l'ho preso in testa ne sono abbastanza sicuro a chi a cosa no ti prego no 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 la bomba no Emma ha preso lo stesso ma che cazzo di bomba è quella di Nembo Kid ecco qua e questa è andata questa è andata questa è quasi andata questa è andata questa è andata vi mettete in fila siete tanto carini io vi ringrazio tanto insomma sì ecco qua questa gli è saltato via la testa e non è caso di perdere la testa così insomma sì no no proprio sono allergico mi dispiace cercando di smettere chi è che cosa vuole questa adesso come uscirà questo più o meno se la faccio prendo o no vediamo un po' ok oh finché sono in fila mi va anche bene dai come la spesa della Conad è uguale più o meno dai ecco qua rispettate le file siamo tutti a posto allora no questo no grazie non è caso allora vediamo un po' lo ultiamo mi ha dato un libro molto interessante proprio questo mi ha dato 8 munizioni d'acciaio i 3 dollari ok questi mi dà 23 alcuni danno parecchio non posso accetto a lamentarmi più che altro che sono molto aggressivi eh veloci come delle gazelle tutti magri muscolosi sembra i boss della Kenshiro i mob della Kenshiro allora vediamo un po' chi altro mi vuole fare il culo qui sono quasi pieno col secondo coso oh mamma mia che ansia che ansia come stiamo è che cazzo però dai è giù no ero già giù questo qui è andato e questo qui questo qui no l'ho sfiorato mamma mia che palle eccoci qua bravissimo hai fatto una cosa giusta lo sai tanto carichiamo perché insomma si oh carica quindi è fatica a capire se per me è a tempo vista così lei non è che magari si fa avanti no perché sa aspettare così non è proprio il massimo mi scusi lei potrebbe farsi vivo devo matarla l'ho ucciso colpendola alla mano madonna che colpo è proprio bestiale insomma finché vengono così a me va bene adesso andiamo di pompa va pompa grazie molto gentilo ok qui siamo carichi no chi è o gli ha no 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 o gli ha il cazzo ok o gli ha eccoci qua oh bene mi fa piaciare e questa è andata eccolo qua dove sono gli altri no 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 chi altri aspetta aspetta dove sono gli altri ho fatto un casino dell'anima non c'è si può dire che sono ster ma chi l'ha detto ma scusa no no ho ho preso sulla gamba ho preso sul collo ok andiamo bene così c'è altri no perché insomma vorrei rilassarmi un secondo mamma mia che dungeon frenetico eccolo la oh porca di quella porca no 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 aspetta un secondico prendi questa ma a chi e a quando ma dove cazzo ho tirato ci sono spopolati a vicenza allora lì ce ne sono due eh proviamo ovviamente ho sbagliato mi sembra ovvio adesso mi arriva all'improvviso io non riesco neanche a mirare vedete voi guardate oh bella così eccolo qui oh mi è piaciuto tanto ma no questo ah ma quindi era obbligata la cosa va bene ma lutto ogni tanto per farmi vedere che apprezzate il mio sforzo va bene andiamo avanti ok ragazzi e abbastanza comincia ad essere bello il gioco eh per carità ma cazzo mi fa venire degli infarti atomici in 5 secondi questo è qualcuno o sono io che sono cercato sono io che sono cercato ok salve non l'ho preso per niente no no non sono laggiù è mio cugino oh cazzarola no 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 to to no no aspetta un secondi aspetta un secondi aspetta un secondi un secondi diamoci la cura va che è meglio allora c'è più nessuno carichiamo che è meglio luttiamo che è meglio io avevo due cadaveri qua credo almeno spero almeno ok ho preso anche l'altro oh mi sono caccato in mano chi è? chi è che mi vuole male? vediamo un po' ho fatto qualcosa effettivamente che va da tempo? no si più o meno però facciamo una bella coscia mi scusi lei avrei bisogno di fare due chiacchiere qui guardi un occhio ecco vi dia un occhio anche lei un attimo signore mi scusi ma ha bisogno di fare due cosine ecco qua aspettiamo no 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 toh 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 ma porca vacca sei morto o sei riuscito a farmi stacca signore mi scusi un attimo non è cortese insomma che cavolo tutti alla grande no però ci provo insomma si eccoci qua toh oh altri ecco carica brava fai una bella coscia ma io a questo punto lo metto qua e aspetto perché se arriva qualcuno infatti arriva l'ho preso proprio benissimo eh ma proprio bene bene l'ho preso fatemi capire non ci provare proprio no ma porca sei quella troia eh scusate ho sbagliato e quando mai ok ho 50.000 pulsanti da spingere e abbiate pazienza se ne spingo tanto in una volta sola ma fatemi capire l'unica volta che spingo qui arriva qualcuno perché se no non usciamo più eh eh ne arriva qualcuno lo vedo io no bravissimo adesso ok due colpi di pompa eh ci vogliono oh però sta cominciando ad andare ok ce l'abbiamo fatta dai ce l'abbiamo faccionata sono contento meno male hanno smesso di venire perché insomma era un po' tediosa la cosa ok mamma mia io no così giusto per eh una salvatina ho fatto salva però non so se mai una salvatina la farei perché insomma rifare tutto da capo non è proprio il massimo vabbè andiamo giù in steltagina anzi no qui non c'è bisogno vediamo se c'è qualcosa qui perché a volte c'è della roba e non si vede andiamo un pochino andiamo giù è quello che è ma tutti questi come cazzo vedevano qui dentro come si nutrivano santa miserica non vedo niente di buono vero no mitra per carità buono non proprio il massimo la feltrite grazie devo ancora capire come cavolo usarla però insomma ah ci sono quelli là che non luttano avete presente eccoli qua se si ammazzano tra di loro io non è che dica qualcosa insomma non sono certo io a dire no 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 fermi tutti insomma arrivo io ecco qua ovviamente munizioni le ho presi tutte sì dobbiamo incominciare a usare ricarichiamo perché non si sa mai allora è giù è su ok mi sbaglio sempre cavoli di qua andiamo sì sì andate andate ho fatto una cacca andiamo giù che è meglio ho detto su ma porca miseria qui cosa c'è qualcosa sì bravo bravo complimenti insomma sì sono nemici vero ditemi che sono nemici sono amici beh sono contento ho sparato i miei amici che cosa gradita lo vedo dai ma fammi fammi passare idiota di merda ma guarda testa testa di cazzo ma guardate voi non ci posso credere non ci posso credere mi aveva bloccato lì mi stavano sparando mi sembra ovvio non morite perché mi state già sui coglioni perché non si fa così ecco andiamo via perché è meglio adesso prendiamo un po' di cose adesso mi piace ok questa è andata questi non luttano quindi qua tre coglioni semplici c'è voglio che muoiano perché stanno solo tre coglioni ecco qua preso questi non luttano tanto ah luttano appunto qua è luttano meglio così insomma sì tog ok questo ci vuole il mitrozzo eh il mitrozzo il pompaggio non dico in due giorni in questo ci voleva eccoci qua bravo così si fa è certo che l'ho preso che tanto malo eh vediamo un po' qui luttiamo qui luttiamo qui facciamo un altro loot non so cosa sto prendendo te sei cattivo e brutto io dicevo che ero uno dei miei vuole colpirci dal fianco ecco perché vorrei tanto che si togliesse dai coglioni perché insomma non riesco mai a capire chi sono i miei chi sono i loro non è che siano tanti tanto facili nella frenesia del combattimento capire chi è chi non è ovviamente allora ok silenzio eh stiamo con calma è proprio fatica ma questo è uno dei miei presumo eh e questo è uno dei loro ok andata ci stanno mettendo sotto no ma che mettendo sotto adesso piano piano facciamo se ti devi fermare perché se no io non ci capisco un cazzo ok andata ok altro non è che la missione è mantenere in vita qualcuno perché se no qui viene fuori un carino fantastico eccellente proprio eccellente eccellente aspettate un attimo mi sono inchiodato allora vediamo un pochino di andare di qua di andare di lò di andare di su di giù io vorrei luttare un pochino perché ho ammazzato cani porci e sono spariti tutti ovviamente eh mi sembra ovvio che siano spariti tutti non c'è rimasto poco e niente di tutti quelli che ho ammazzato forse quelli che ho ammazzato io sono rimasti non posso andare tu non mi fai parlare porta laggiù lui rimane qua quindi devo andare di qua credo di sì spero di sì non ci capisco un cazzo non è di qua che devo andare certo che è un contesto forse devo salire sopra vediamo se mi fai salire sopra in qualche modo no di qua non mi fai andare io rimango qua tu porta laggiù mi ha detto ma giù dove? c'è una fogna qualcosa? qui non mi fai far niente ah sì qua scusate porta la tossina a Carlson quindi devo farmi tutta ritroso non c'è o non vedi uscita qualcosa? eh sarebbe detto in culo però una roba del genere qui magari si vede un cazzo allora proviamo a vedere adesso prima di tornare indietro ok sto dicendo quindi fare una cacata ok cos'è? forse ho capito credo devo mettermi lì e vedere se si aziona oh poverino mi dispiace tanto eh non ok ce l'ho fatta mamma mia momenti cadevo eccoci qua oh così almeno siamo a postolo andiamo pure su questo cosa serve? ho fatto una cacata scusatemi se devo tornare dovessi tornare qua la vorrei tenere bene in su ok pompazza e carico possiamo andare beh alla fine la missione l'abbiamo fatta veloce pensavo peggio è stato oh vedete che c'è qualcosa è stato molto frenetico per carità però non è stato proprio male male alla fine non siamo morti e questa è la cosa più importante credo alla fine bene dai è venuto anche di 20 minuti l'episodio siamo anche a posto dai facciamo una bella salvatina e siamo a posto così nel prossimo episodio andiamo a consegnarla anche siamo già qui ottimo lavoro amico mio grazie è stato un po' più gentile da parte tua la prossima volta quei predoni ci penseranno due volte prima di farci morire di sete ah avete visto siamo usciti da qui interessante va bene ragazzi io direi che per questo video è tutto noi ci vediamo alla prossima video di Rage vediamo un po' di andare avanti con le quest che ce ne sono ancora diverse meno male direi se no qui sarebbe un casino come al solito sbaglio abbiate pietà ah quindi per adesso c'è solo questa e la solita di Sally va bene ragazzi io come al solito vi invito a lasciare un like e un commento se vi piace Sally fammi sapere cosa ne pensate e da adesso vi do un po' di saluto di Shiva ciao 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 ciao